L'unico video che faccio oggi, non lo so se lo faccio per divertirmi, c'è gente che chiude i canali apposta per fare il pesce d'aprile. Pista bianca. Allora, ti spiego una cosa, ti spiego una cosa. Qual è il dibattito demenziale? Il dibattito demenziale sono le armi. Allora, le armi non servono, serve la diplomazia e la pace. Perché? Non è una ragione ideologica. Cosa fa la Nato? La Nato non è un'alleanza difensiva. Tra l'altro la Turchia è l'emblema, è un'oligarchia simile alla Russia, dove la libertà di stampa esiste fino a un certo punto, dove esiste un monarca che comanda da secoli, da 50 anni, è una sorta di sultano. Draghi aveva dato una definizione corretta, andatevela a studiare, però ce la siamo dimenticati. È un paese che appoggia indirettamente la Russia, ha fatto passare le navi nel Bosforo, appoggia gli yacht, ha finanziato qualsiasi tipo di guerriglia per ostacolare i curdi, che sono un popolo libero, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo il paese delle contraddizioni. La Turchia è nella Nato e non è certamente una democrazia liberale. Ci sono i media, sono comandati dal potere, hanno fatto un finto colpo di Stato per incarcerare i dissidenti. Stessa cosa che accade in Russia. Quindi lo scontro di civiltà che vuole Oriana Fallacci, che voleva Oriana Fallacci, perché questa è la chiave, la chiave, quello che ci dimostra questa guerra, ci squaderna davanti agli occhi le contraddizioni dell'Occidente. Non puoi esportare la libertà, ma tu non sei dalla parte della libertà. Ma cosa vuol dire? Allora le tribù africane che vivono così da secoli, cosa vuoi fare? Vuoi fare come Napoleone? Vuoi fare come i conquistadores che hanno schiavizzato e ridotto in schiavitù l'Africa? Chiedetevi perché, ve l'ho già detto, ci sono i negri in America. Ve lo siete mai chiesti? Quindi non è un dibattito. Non esiste il bene e il male, il buono e il cattivo, il bianco e il nero. Sono tutti uguali. Ed è il mondo interconnesso. C'è un incontro in Afghanistan dove partecipano russi, americani e cinesi per la spartizione dell'Afghanistan, ok? Per gestire il dopo disastro americano, ok? Quindi il mondo è interconnesso. I cinesi sono parte della nostra società. Vaglia Prato è pieno di cinesi. Gli italiani lavorano in Cina. Tutta questa dittatura, diceva bene Travaglio, non si parlano. No, si parlano, ha detto bene Travaglio, si parlano nel dibattito con Sallusti. Quindi abbiamo un paese interconnesso, il mondo è interconnesso, bisogna lavorare di diplomazia, basta armi, basta missili, basta eserciti. Poi, secondo me, l'alleanza NATO è solo il male, perché la NATO è l'America, è l'invasione degli Stati Uniti nel mondo, che poteva avere un senso quando il mondo era diviso in due, ma c'era un mondo poverissimo e un mondo ricco. Noi eravamo l'Occidente modernizzato che stava comunque progredendo. Adesso il nostro sviluppo si è fermato, la Cina è esplosa perché i cinesi sono un popolo meraviglioso, con le contraddizioni, ma sono le stesse che abbiamo noi, che abbiamo finanziato le guerre, che abbiamo invaso territori, che abbiamo inventato il colonialismo. Cioè, vi dimenticate le tragedie del secolo scorso? Come è nata la Seconda Guerra Mondiale? E sta succedendo la stessa cosa.